Ciao belli, benvenuti in questo nuovo video di Clash Mini Ormai qua sul canale il gioco pronompente e presente sempre e comunque è questo Vi sta piacendo molto, sta piacendo molto alla community e sinceramente sta piacendo molto anche al creator, agli streamer che lo stanno portando molto Quindi due domande me le farei La domanda che sorge spontanea è quando il gioco arriverà in Italia, quando uscirà globale, quando diciamo ci sarà lo step successivo Sapete che dalla beta poi c'è il lancio globale perché le fasi di un gioco sono la pre-alpha, l'alpha, il soft launch, beta e così via Questo gioco ormai è in beta quindi siamo quasi agli sgoccioli, un gioco fatto molto bene, studiato a tavolino Ci sarà anche un grosso aggiornamento che verrà fatto quando appunto verrà rilasciato globale Cosa che viene fatta sempre appunto per incitare i nuovi player a scaricare questo gioco Questa è una cosa ovvia a livello di marketing Oggi siamo qui per parlare appunto di quando questo gioco arriverà a globale Ma prima però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, passare in live il pomeriggio Iscrivervi ai miei social che trovate qua sotto in descrizione E soprattutto condividere questo video con i vostri amici Dovete diciamo far spargere questa notizia un po' a tutti perché se no non vale Spostiamoci però subito sulla schermata dell'iPadino Prima su quella con l'overlady BS perché ci sono delle novità anche inerenti al profilo Twitter Profilo Twitter di Clash Mini Penso che ormai tutti lo conosciate soprattutto quelli un po' più veterani del canale Prima diciamo di questo boom, di questo riciclaggio di persone che sono arrivate grazie a Clash Mini Io portavo già video di Clash Mini News Diciamo dove andavo un po' a parlare inerente a questo gioco Facevo speculazioni E una tra queste speculazioni è stata appunto quella del lancio l'8 novembre L'8 novembre l'avevo predetto già prima che venisse annunciato E sono qui per presentarvi alcune cose La prima cosa che bisogna capire è il gioco, in che paesi è disponibile Molti me lo state chiedendo Questi qua sono i paesi disponibili Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda, Norvegia e il Canada E c'è anche la Danimarca se non erro Quindi questi qua sono i paesi in cui adesso è disponibile il game Quindi se volete scaricarlo basta inserire attraverso quel metodo che vi ho fatto già vedere un sacco di volte Questi dati qua, questi paesi qua Ma la cosa interessante che sicuramente interesserà anche a molti di voi È quando arriverà globale Una notizia c'è stata in questi giorni che non ho ancora portato neanche nelle live Quasi nessuno la sa Ed è questo tweet qua di Clash Royale che è stato retweetato a sua volta da Clash Mini Che scrive Se noi andiamo a tradurre il tweet tramite appunto la funzione di traduzione di Twitter Ci viene scritto Ci stiamo divertendo così tanto a suonare il Clash Mini Beta Quindi in realtà playing in questo caso intende giocare Così tanto a giocare il Clash Mini Beta Non vedo l'ora di vedere altre bandiere aggiunte presto Quindi questo cosa vuol dire ragazzi Tenetevi pronti perché presto a queste altre bandiere potrebbe aggiungersi anche quella dell'Italia O addirittura quella del mondo Adesso vi faccio un po' dei discorsetti che sono molto molto interessanti Pensate un po' a una cosa ragazzi Pensate una cosa Quando è uscito Brawl Stars Brawl Stars uscì il 12 dicembre del 2018 Il giorno diciamo due settimane prima di Natale sostanzialmente Tenetemi pronti ragazzi Tenetemi pronti alle settimane precedenti al Natale È vero che il pass potrebbe uscire quando finisce il pass Il pass ragazzi mancano ancora un 50 giorni prima che finisca Quindi si potrebbe parlare di gennaio Ma tra dicembre e gennaio ragazzi avremo il gioco globale a mio parere Se non a dicembre perché è il metodo migliore per la Supercell Per guadagnare a loro volta Pubblicare un gioco che potrebbe avere veramente il boom 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 Prima però adesso continuiamo a parlare di queste cose Però nel gioco di Clash Mini Perché ci sono delle grosse novità anche su quello Apriamo il game Game che comunque ragazzi è clamoroso Secondo me uno dei migliori game che ha fatto uscire la Supercell Degli ultimi tempi E naturalmente il Vapor si sta giocando Ci sta giocando in live Non so chi mi segue però comunque lo sto portando molto Sono a 262 coppe Mi state chiedendo molto in quante coppe? Sono solo 262 Non sono tante lo so benissimo Sto giocando molto molto male Sono a livello quasi 8 del profilo Sto facendo un po' le missioni Per tenermi aggiornato appunto col pass Perché sarà abbastanza difficile finirlo Dato che come vedete sono 90 soglie Ragazzi 90 soglie sono veramente veramente Tante da fare a mio parere Ma si potranno fare Si potranno fare Ho sbloccato anche un sacco di ricompense esclusive Se volete vedere un box opening qua sul canale Lasciate un big pollicione all'insù Mi raccomando E quello che ci tenevo a dire Parlando appunto sotto questo gioco E il fatto di come uscire a dicembre E per Supercell Una cosa importantissima a livello economico Perché poi con l'anno nuovo Si diciamo disperdono dei soldi Tutto il boom economico si ha A dicembre prima di Natale Quindi ragazzi tenetevi pronti per le settimane prima di Natale Perché secondo me ne vedremo delle belle Potrebbe essere anche un'altra cosa Ossia che appunto dato che Clash Royale ha scritto questo tweet Dove c'è scritto che verranno aggiunte nuove bandiere presto Potrebbe essere effettivamente che magari aggiungano delle nuove bandiere E tra queste ci sia l'Italia Magari non lo lanciano globale Ma uscirà in beta in Italia Quindi uscendo in beta in Italia Effettivamente tutti i player italiani lo potranno scaricare Quindi restate sintonizzati qua sul canale Perché vi darò le date più precise nei prossimi giorni Una cosa che vi dico Tenetevi pronti tra dicembre e gennaio Queste secondo me sono le date possibili dell'uscita globale di Clash Mini Secondo anche alcune certezze Io vi dico l'8 novembre l'avevo azzeccato Fidatevi Fidatevi Vi dico solo questo Prima però di chiudere il video Ci tenevo a parlare un attimo di questo profilo qua Ho bisogno dei consigli da parte vostra Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti Io sto utilizzando la Countess Non mi fa impazzire Perché potrebbe essere magari più utile utilizzare la Regina degli Arcieri Dato che c'ho la livello più alto Anche lo Shieldman è a livello 3 Diciamo sono un po' Titubante su questo deck da utilizzare Nonostante questo però Fatemi sapere se volete vedere anche un box opening Della ricompensa esclusiva di questo pass Che è quella al Plashy Pekka Che ho già sbloccato Ed è molto molto caruccia Questa qua adesso ve la faccio vedere in anteprima E questa qui è molto molto carina Secondo me è una gran gran bella skin Manca poco che maxerò anche tutto l'account Ma questi qua sono altri contenuti che vi porterò In un video a parte Il video termina qua Era un contenuto principalmente inerente alle Clash Mini News E un video corto Dove volevo semplicemente illustrarvi quelle che sono le mie teorie Basate naturalmente su cose che Tra virgolette sono certo Non al mille per mille A mio parere ragazzi siamo vicini al lancio di Clash Mini Il fatto che abbiano già fatto aggiornamenti dopo una settimana E che vogliono effettivamente annunciare delle date Di nuove bandiere Mi fa capire del boom che sta avendo questo gioco Un gioco che sta piacendo molto a tutta la community E non succedeva da un po' di tempo La Supercell non si può far mancare questa occasione E conoscendola la sfrutterà al meglio Se avete delle notizie aggiuntive Fatemele sapere qua sotto nei commenti Che vi lascio un cuoricino E vi rispondo come sempre Io vi ricordo gli appuntamenti Domani alle 14 nuovo video qua sul canale In premiere E tra poco in live Alle ore 16 Barra 17 Comunque seguitemi su Instagram Per maggiori informazioni A riguardo Ciao belli Mua 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 Mua